Ma voglio anche dire a quei cittadini di darci la possibilità di dimostrare che le cose possono cambiare. E noi siamo qui sostanzialmente per questo. Abbiamo assistito in passato al clamoroso fallimento di Bagnoli Futura che avrebbe dovuto portare avanti gli interventi di riqualificazione ma invece ha lasciato il sito incontaminato per il 93% delle aree mantenendo sostanzialmente immutato il disastro ambientale della colmata a mare con una superficie di quasi 200.000 m2 riempita di cemento, di scarti inquinanti dell'alto forno dell'exit al Sider. Bagnoli Futura è fallita dieci anni fa e da quel momento si è aperto il capitolo del commissariamento dell'area con la nomina nel 2015 del primo commissario di governo e con l'indicazione di Invitalia come soggetto attuatore del programma di resianamento. Che cos'è che non ha funzionato? Non ha funzionato che in questi dieci anni è mancato un elemento non secondario per garantire che il commissariamento potesse dare risultati concreti e cioè le risorse. E quello è il problema che oggi noi cerchiamo di contribuire a risolvere il problema al quale abbiamo lavorato fin dal nostro insediamento. Abbiamo come ricordava il sindaco riattivato la cabina di regia prevista dalla legge che ha istituito l'area di crisi Bagnoli Coroglio, è stato rimodulato il programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il cosiddetto PRARU e soprattutto ci siamo occupati di individuare le risorse necessarie per fare in modo che gli impegni presi, a differenza di quanto accaduto per tanti anni, non rimanessero così scritti sulla sabbia.